Qua in fiera a Climaus presentiamo l'EPD, certificato che va a testare la qualità del nostro sistema produttivo e che va comunque a rivolgersi alla sostenibilità del futuro, quindi edifici del futuro legati a quello che è la produzione presente. Quindi produzione cosa significa? Che noi a 360 gradi garantiamo che i nostri prodotti hanno materie prime garantite e naturali, le emissioni sono a zero e anche il consumo dell'acqua e di energia è portato a zero e questo aiuta a costruire in modo clean e pulito.